Ci sono molte parole che dovrebbero scomparire al nostro vocabolario Il computer, la flat tax, lo sport, lo stop, il wifi, internet, lo shopping, la privacy Oppure dal francese la bovete, la roulette, il menu, la roulotte Dal tedesco l'interland, il bunker, il diesel, il blitz Vi sembra normale che perdiamo tempo a vedere una banalità come questa? Quando poco fa lei mi ha detto Cosa succederà se non portiamo a casa il denaro dall'Europa?